Ciao ragazzi, oggi vi chiedete perché sono vestito così? Perché abbiamo praticamente ricreato la mia pista di BMX con Gravitrazz! Adesso vi presentiamo la pista e ora leggerete cosa si è scritto! BMX Stadium! E che cos'è quello, Cari? Qui abbiamo messo praticamente l'ufficio e gli spogliatoi. Questi sono praticamente dove le persone vanno prima di entrare nella pista di BMX. Poi qui abbiamo la partenza e qui abbiamo l'arrivo perché abbiamo voluto fare praticamente che abbiamo fatto una gara di palline, abbiamo fatto tre piste, ognuna ha la sua pista e chi arriva per prima, tipo la palla rossa o verde o blu, quella che arriva per prima è la vincitore. La vincitrice! La vincitrice che prende la medaglia d'oro, poi abbiamo quella verde o blu che prenderà o rossa, quella che arriva prenderà quella di argento, la seconda prenderà quella di argento e la terza prenderà quella di bronzo. Bravissimo! Ce le metti tu le medaglie? Sì! Ah, le compri tu con i tuoi soldi? Bravissimo! No, non le compro io ma facciamo finta che le ho messe. Ah, ok, ok. Ora la faremo partire. Aspetta un attimo, dobbiamo controllare se è tutto a posto prima, anzi facciamo una bella panoramica su tutta la pista. Vedete? Perché abbiamo praticamente fatto l'inizio. le tre piste praticamente si proseguono tutte nella prima linea, qui abbiamo la parabolica. La prima parabolica delle quattro. Ok, poi abbiamo la seconda parabolica, giusto? Che continua con un cannone e altre cose. Lascia stare quello. Poi qui abbiamo... Andiamo avanti, avanti e troviamo la terza parabolica. Parabolica. Parabolica! Qui è il punto dove si trova la famosissima buca, che è un passaggio tipico della pista della BMX di Olgiate. Una cosa! E poi vai avanti, prosegui. La terza, questa è la quarta. E questa è la quarta parabolica. Parabolica. Che poi dopo, tutte e tre le piste, tac, 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 arrivano, si congiungono tutte insieme e arrivano all'arrivo, vero? Ecco che abbiamo. Cristian, pallina rossa. Papà, pallina verde. Edoardo, pallina blu. Sei pronta a far partire tutto? Sì! Vai! Wow! Vediamo! Una è caduta! Chi è? Cristian è caduto poco prima del traguardo! Dà! Sono morto! Ecco l'arrivo! Chi era verde? Io? Sì! Oh, sono arrivato primo! Che fortunato, papà! E terzo Cristian! Adesso vi faremo vedere la pista a ralentatore. Ok? 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 Grazie a tutti. Oh, bellissima! Ed ecco a voi l'arrivo! Ora partirà la pista. Wow! Sono arrivate! La prima è stata la verde, quindi medaglia d'oro data, la seconda la blu, medaglia di bronzo data, e palla rossa medaglia, che è quella che speravo che venisse prima, ma è arrivata terza, medaglia di bronzo. Ok, perfetto, bravo! Ragazzi, speriamo che la nostra nuova pista, l'Abbia Mitz Stadium, vi sia piaciuta. Ma prima di lasciarvi vorrei salutare il nuovo iscritto al canale Riccardo. Ciao Ricchi! Seguici sempre! E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! 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 Ciao!